il tema dell'expo è il cibo adesso sembra che ci sia il living fish che è questa nuova moda che arriva dall'america cioè mangiare i pesci vivi pesci vivi dipende da dove viene la pesce perché è un po' precoloso mangiare i pesci crudo però io con le persone che mangiano solo i pesci non è carne, io sono proprio carne bianca non carne rossa non mi piace e non lo consiglio secondo me non ti piace il pesce? no no mi piace il pesce sia il pesce che la carne ma mangiarlo vivo e crudo non lo consiglio io mi piace mangiare il riso comunque il pesce ti piace? sì quello sicuramente cioè mi piace il sushi quindi alla fine sì il pesce mi piace un casino a te piace il pesce, a tuo fidanzato la patata sembra che all'expo ci sia un padiglione tutto dedicato ai cani cosa ne pensi? interessante mi piace un sacco penso che magari sia anche il cibo per i cani a questo punto no mi sono spiegato male cioè ci sarà un padiglione dove tu scegli la razza e un padiglione asiatico e poi te lo mangi ah no tu pensi che un cane non si meriti una bella cenetta a base di sushi? beh sì ok cioè sì però sei contro i cani? no ho dei cani? no ne ho tre e questi cani sono ancora in vita? certo perché in molti si pensavano che non era giusto dare una bella cena a un cane invece tu sei invece dalla parte contraria esattamente sono d'accordo è giusto dare comunque anche a loro la possibilità di vivere come noi esseri umani però quanto sarebbe bello far mangiare un bel piatto di sushi al tuo cagnolino al quale vuoi tanto bene? no non mi piace come idea no? facciamo chiudere mi fai chiudere la parte di... chiudiamola chiudiamola grazie per esempio a me piacciono molto le lasagne che è il classico cibo no non ti piacciono le lasagne? no cosa ti piace? la pizza ok senti hai mai mangiato qualcosa di strano tu? è strano quando ne vuoi? non penso non penso perché mangio occhi chiusi? no vabbè però non mangio cose strane tipo la lumaca? ah vabbè sì però per me è una casa normale dove cazzo vivi? in uno stagno? tipo oggi ho mangiato il pesce con le uova e la zucchina strana con il riso un miscuglio allucinante lei ha mai mangiato qualcosa di strano? sì certo tipo? eh non lo so la... il pollo diciamo arrosto insetti vermi la rana fritta mangeresti mai una lumaca? la mangiate? quando? cavalletti con le robe lì no a zero no potrei vomitare solo a guardarle ti propongo di mangiare un verme vermi? anzi quello sarei curioso di mangiarmelo abbiamo i vermi no così bruttissimi crudissimi vabbè vuoi che li pettino? niente verme? no uno? no metà? no volevo farti mangiare questi no aspetta nutriti perché in verità i vermi non si possono mangiare perché nei cibi che sono commessibili ci deve essere una cosa che è il glutammato nei vermi non c'è quindi non si può mangiare cosa ci deve essere nei cibi? il glutammato ma va ok quando vuoi e mi fai sapere che gusto ha questa? sì sono stato sotto nel vodka molto alcolizzata sì buono buono sentite chi da buona sì va bene top buono 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 Grazie.